Influenza 2019-2020, il peggio deve ancora arrivare perché il picco influenzale è previsto per la prima settimana di febbraio. A metà gennaio però l'osservatorio registra un brusco aumento del numero di casi di sindrome simil-influenzale, soprattutto nei giovani adulti e negli anziani. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 374.000, per un totale dall'inizio della sorveglianza di 2.268.000 casi. La rivelazione dei dati delle sindrome influenzali è iniziata il 14 ottobre del 2019 e terminerà il 26 aprile del 2020. Fino ad ora le regioni maggiormente colpite sono Piemonte, Lombardia, il Trentino, l'Umbria e l'Emilia-Romagna. Una situazione particolare si è registrata invece nelle Marche, dove l'incidenza ha superato i 4 casi per 1.000 assistiti. E nella nostra provincia è tutto pronto quindi in strutture pubbliche e medici sul territorio per affrontare le migliaia di persone che verranno messe a letto dal virus. Marche Nord si prepara ad affrontare l'afflusso dei pazienti per l'arrivo del picco influenzale. Il direttore generale Maria Capalbo e il direttore sanitario Edoardo Berselli hanno convocato una cabina di regia per costituire una task force per fronteggiare l'emergenza eventuale. Marche Nord mette in campo una serie di azioni per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti, spiega il direttore generale Maria Capalbo. I protocolli che stiamo attivando resteranno in piedi quindi fino alla fine dell'emergenza. Il modello è quello dello scorso anno che ha funzionato, dice Edoardo Berselli, direttore sanitario. Quotidianamente vengono messi a disposizione del pronto soccorso circa 30 posti letto in più da riservare alle emergenze. Ad oggi comunque dal fronte del pronto soccorso non si registra un aumento degli accessi, precisano Umberto Gnudi e Giancarlo Titolo, i responsabili del pronto soccorso di Pesore di Fano. Da questa settimana però è partita la fase ascendente, per questo la task force è fondamentale per fare fronte all'emergenza. Ovviamente è fondamentale ricordare che aver fatto la vaccinazione rimane il principale strumento di prevenzione dell'influenza. Comunque per i prossimi giorni, per ridurre la trasmissione del virus o dell'influenza, è importante mettere in campo da parte di ognuno di noi delle misure di protezioni personali, come per esempio lavaggio frequente delle mani, in assenza di acqua si possono usare anche i gel alcolici, buona igiene respiratoria, coprire la bocca e naso quando si starnutisce o tussisce, isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase iniziale, e poi uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari, ospedali o ambulatori. Grazie a tutti.